La bonta, 22 in campionato per il Matador Cavani. Taddei, ancora Junior Tallo, esortito contro la Fiorentina in Serie A. Bello il numero di Tallo, lascia partire il cross dentro, e il gol! Simplizio, il pareggio della Roma, 2-2, l'assist di Tallo e poi Simplizio. L'orgoglio della Roma, quando sembrava in difficoltà, è riuscito a trovare questa giocata con un suo giovane, defilato sulla fascia sinistra, saltato l'uomo verso l'interno del campo e poi Simplizio, l'avevamo sottolineato come fosse bravo negli inserimenti dove va. Luca, perdonami, ma qui sta succedendo qualcosa che non ho mai visto, non abbiamo mai visto. Fabio Simplizio in tribuna, a facciare il figlio, la moglie, credo. Un'esultanza che presumo gli costerà il cartellino giallo. Non avevamo mai visto una cosa del genere. Incredibile.